Alessandro Crescenzi è pronto a lasciare Pescara a destinazione Elas Verona. L'indiscrezione rilanciata dal portale gelucadimarzio.com ha trovato conferma nel fatto che il giocatore Stavani non si è allenato con la squadra e parla di cessione a titolo definitivo del terzino romano che si apprestava a disputare la quarta stagione consecutiva in biancazzurro, la quinta complessiva. Ai nostri microfoni Crescenzi a maggio aveva dichiarato di stare bene a Pescara e di essere pronto a ridiscutere il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno. Le strade invece si separano e l'operazione troverà formalizzazione nelle prossime ore. Il movimento può essere il preludio all'acquisizione di un nuovo terzino sinistro, Crivello del Frosinone o Eguelfi dell'Atalanta. Intanto il Pescara aggiunge un elemento alla sua batteria di esterni d'attacco. Si tratta del 25enne Manuel Marras, il giocatore di proprietà delle Trapani con contratto in scadenza giugno 2019, ha espresso la sua soddisfazione con una Instagram Stories nella quale ha postato tre Delfini. Attaccante esterno destro nel corso della sua carriera, tanta serie C a ottimi livelli, soprattutto nel girone A con le divise di Savona, Suttirole e Alessandria. L'ultima stagione a Trapani, appunto nel girone C con tre gol e ben 14 assist a referto. L'arrivo di Marras giunge a sorpresa in un momento in cui il Pescara era anche in attesa della definizione delle vicende Gennaro Tutino e Mirko Antonucci. Con Tutino c'è l'accordo da tempo col giocatore ma il DS del Napoli giuntoli spinge l'ex Cosentino verso il Carpi. Il presidente Sebastiani e il DS Leone sperano che a prevalere sia la volontà del calciatore, del suo entourage. Per Antonucci invece c'è l'accordo tra la Roma e il Pescara ma è il giocatore a nicchiare. Anche se ieri lo stesso Antonucci, sul quale c'è forte l'interesse anche dell'Ascoli e del neotecnico Vivarini, in una Instagram Stories ha inserito un posto con un paio di Delfini. Riferimento al Pescara o alla foto che lo ritrae in acqua con un pallone? Sul fronte centravanti sono giorni importanti per accelerare la trattativa con l'Atalanta per Gaetano Monachello. Il Delfino vuole consegnare a Beppi Pillon il nuovo centravanti da aggregare al ritiro di Palena, così da permettere una immediata integrazione in gruppo, assimilando in Toto il credo del tecnico di Preganziol. Intanto le ultime ore rischiano di ridisegnare il quadro della Serie B. Ieri la Covisoc ha emesso i propri pareri sulle documentazioni presentate dalle società per l'iscrizione al campionato. Il verdetto è stato negativo per Avellino, Cesena e Bari, che sono momentanamente escluse dal torneo cadetto ed ora hanno tempo fino alle ore 19 di lunedì 16 luglio per fare ricorso e sanare le inadempienze. Per l'Avellino, che ha problemi con la fideusione, non dovrebbero esserci problemi. Se ci sarà la riammissione, probabile arrivi successivamente una penalizzazione di un paio di punti. Compromessa la situazione del Cesena, vicinissimo al fallimento, molto difficile quella del Bari, che entro lunedì ha bisogno di versare 3 milioni di euro. Entro il 20 luglio le decisioni definitive e in caso di posti vacanti spazio ai ripescaggi con la Ternana ed altri club alla finestra.